Aumenta la sicurezza nella Valle del Ticino a Oleggio. Come comunicato sui social dal sindaco Andrea Baldassini, per controllare meglio il territorio sono stati posizionati tre varchi con lettura targhe nelle principali vie di accesso al Parco del Ticino dalla città. In Via Vecchia Ticino, Via Sant'Eusebio e Via Raspagna sono stati posizionati tre lettori targhe con telecamere di contesto i cui dati sono inviati in tempo reale. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.